Stai per ascoltare La goccia di Valeria De Vecchi, narrato da Gianluca Testa e Valeria De Vecchi per teatro formativo. La goccia. Era una fredda sera di inizio novembre. I colori dell'autunno dipingevano l'ambiente come un aspirante pittore si diletta con i suoi pennelli. Nessuno sapeva il nome di quel parco. La targhetta attaccata al cancello di ingresso era misteriosamente priva di scritta, ma proprio in quella sera di novembre accadde qualcosa di speciale. E da quel giorno, sulla vecchia targhetta un po' ammaccata dal passare del tempo, apparve la scritta. Parco della vita. Brividi di panico si fecero spazio tra le molecole di goccia impaurita che, alla vista di quel lancio, urlò all'oscurità. Oh cavolo! Oh cavolo! Stai bene? Dove sei? Burlona, mi senti? Ma perché si è buttata così? È pericoloso! Poi, voltandosi velocemente verso le altre gocce presenti, chiese. Perché voi non avete fatto niente per fermarla? La giovane goccia stava iniziando a comprendere il senso delle parole dell'amica, ma era difficile accettare questa nuova visione della vita. Non si sentiva pronta a dover affrontare tanta incertezza. Ormai aveva capito che di tornare su nuvola non se ne parlava. Doveva restare lì, su quella foglia, e scegliere se aspettare o buttarsi nel vuoto. Al solo pensiero, la paura le fece vibrare tutte le molecole, togliendole il respiro. Saggia si accorse che l'ansia di impaurita stava prendendo il sopravvento e così cercò di confortarla. Impaurita non farti prendere dal panico e cerca di fare respiri profondi. Ogni problema ha una soluzione. Vedrai che uscirai da questa situazione più forte di prima. Una volta riprese le forze per parlare. Impaurita guardò con estrema gratitudine la sua amica e disse... So che non dovrei vergognarmi, ma mi sento così sciocca in questo... Ma venne interrotta da cattiva, che aveva deciso di intromettersi nuovamente tra i loro discorsi. Come la stai facendo lunga! Pure gli attacchi di panico ti sei fatta venire. Non ho parole. Sei per caso in cerca di attenzioni? E anche tu, Saggia, perché le dai retta? Non hai nient'altro di meglio da fare? Saggia decise che era giunto il momento di dare una bella strigliata a cattiva. Impaurita era rimasta impietrita dalle parole di cattiva. In tutto quel tempo non le era mai passato per la goccia il pensiero che sarebbe potuta svanire nel nulla da un momento all'altro. Al massimo, che sarebbe rimasta lì tutta sola, cercò di non farsi prendere dal panico e fece lunghi respiri profondi. Poi si voltò verso la sua amica per chiedere spiegazioni. Io cerco di stare calma, ma per favore, Saggia, spiegami che cosa voleva dire cattiva con quella sua ultima frase. Saggia sapeva di dover usare le parole giuste. Era un momento molto delicato per impaurita. Cattiva l'aveva messa davanti a una dura realtà, anche se in modo sbagliato e totalmente privo di tatto. Impaurita si sentì gelare le molecole. Non poteva credere che sarebbe finito tutto così. La sua avventura era appena iniziata e già stava per finire. Questi pensieri catastrofici furono però interrotti da Saggia che con prontezza disse, bisogna imparare a valorizzare il tempo che ci è stato donato. Quindi il futuro non conta niente? Domandò preoccupata la goccia. Ma certo che conta. È importante inseguire i propri sogni, porsi degli obiettivi, stare con le gocce che amiamo e progettare il futuro che desideriamo. Hai impaurita colpì molto quell'ultima frase detta da Saggia. Stai bene oggi per sentirti meglio domani. Ormai stava capendo che tormentarsi così tanto per qualcosa che un giorno, magari molto lontano, sarebbe accaduto, era inutile. Stava iniziando a comprendere il senso profondo delle parole dette da burlona prima di fare il grande salto dalla foglia. Non importa cosa ci aspetta giù, è il viaggio che conta. Queste parole riecheggiarono nella sua mente per lungo tempo. Il suo viaggio sin dal principio era stato abbastanza travagliato. Di certo non se l'era vissuto con spensieratezza. Però era giusto riconoscere che era stata la sua prima vera esperienza nel mondo. E solo vivendo, con le cadute e le risalite, si può realmente comprendere il senso del viaggio e goderselo appieno. Era un momento di crescita molto importante per impaurita. Queste consapevolezze sono fondamentali per affrontare al meglio il proprio cammino. Però c'era ancora un altro ostacolo da superare quel giorno. Infatti, per la povera goccia, le ansie non erano ancora finite.